La provincia di Roma dedica la scuola del sociale a Gorà al ricordo di Stefano Cucchi, il ragazzo morto in ospedale il 22 settembre scorso, sei giorni dopo essere stato arrestato. L'istituto sulla Cassia è uno dei centri di formazione provinciale aperto a tutti coloro che vogliono progettare il proprio futuro professionale nel sociale, come spiega l'assessore al lavoro Massimiliano Smeriglio. È una scuola che forma assistenti sociali, operatori sociali, personale sociosanitario, medici, quindi per noi oggi è importante che la provincia scopre questa targa che dedica la scuola del sociale, cioè la scuola più adatta a ricordare Stefano Cucchi e lo fa come al massimo della rappresentanza istituzionale ci avendo votato anche un atto in consiglio. A scoprirne la targa con la dedica Stefano Cucchi i genitori del ragazzo Rita e Giovanni sensibilmente emozionati. Il fatto è importantissimo, la memoria di Stefano che viene riproposta, il suo caso drammatico che viene riproposto all'attenzione delle comuni pubbliche e che deve servire come monito, come monito perché diciamo nel futuro queste cose non avvengano più.